Intanto esprimiamo soddisfazione per l'approvazione unanime di questa mozione che rivolge un attestato di solidarietà nei confronti dei lavoratori della FIMER e delle loro famiglie. Vorrei ricordare che sono circa 450 tra i dipendenti diretti e quelli che lavorano per questa azienda, molti dei quali anche aziende che risiedono lì in Val d'Arna. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità una mozione proposta dal gruppo del Partito Democratico per sostenere l'avvertenza dei lavoratori della FIMER di Teranova Bracciolini. La Regione si impegnerà quindi a continuare l'azione di monitoraggio e di confronto in sede di unità di crisi lavoro in occasione delle prossime riunioni convocate presso il MISE, mettendo in campo tutte le iniziative necessarie a garantire la salvaguardia occupazionale e la ripartenza dell'attività produttiva. Noi richiamiamo l'attenzione e diamo sostegno a quello che la Regione sta già facendo, un attento monitoraggio e anche un'azione veramente positiva perché l'avvertenza si possa chiudere nel migliore dei modi, salvando i posti di lavoro e rilanciando l'attività di un'azienda che oramai da tanti anni è presente sul territorio e soprattutto lavora in un settore, quello delle energie rinnovabili, che ha una grande prospettiva rilanciata anche da tutte le strategie nazionali e europee legate anche al PNRR. Lì ci sono delle maestranze che veramente sono specializzate e sanno fare il loro lavoro, quindi è impensabile che l'attuale proprietà non si sbrighi a portare i nominativi di altri investitori, così come ha annunciato, che possano ridare liquidità e possibilità di rilancio e di sviluppo a questa azienda. Per metà marzo era ipotizzato un nuovo incontro al Mise che noi speriamo sia quello risolutivo. Ecco, su questo il Consiglio regionale pone la propria attenzione e sostiene l'attività che sta facendo la Giunta, l'assessore, il consigliere Fabiani, affinché si possa veramente arrivare all'incontro al Mise come l'incontro risolutivo che ridia prospettiva all'azienda e che ridia serenità a tutte le famiglie dei lavoratori coinvolti.